e ciao a tutti ragazzi io sono elettro 16 e oggi siamo nella minecraft scp molto bella e niente oggi siamo nella minecraft scp non c'è che dire oggi andiamo a vedere un nuovo scp che però ragazzi è tipo a chilometri chilometri di distanza da questa parte perché tipo raga si trova qua cioè noi noi siamo qua lui si trova qua quindi raga dovrò fare 10.000 chilometri a piedi e niente vabbè farò 10.000 chilometri a piedi dovrò parlare un po calmo perché boh non si bagga l'audio e nessuno mi e nessun rodolfo mi denuncia nei commenti e nelle chiamate di squadio e comunque ragazzi niente la cella è tipo a chilometri chilometri di distanza come sempre ragazzi vi ricordo anche di andare di seguire di iscrivervi anche al secondo canale che è scp elettro 16 perché ci sta un casino di gente che non è iscritta al secondo canale e io gli dico dovete iscrivervi perché è bello perché è un canale scp ed è bello quindi scrivetevi assolutamente perché se no mi incazzo male e vi ammazzo la notte no no scherzo no 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 mi arrabbio però dovete iscrivervi cristo santo scusate per le parolacce però vi dovete iscrivere a questo canale e poi dovete entrare anche nel mio server della discordia o server discord perché è bello quanto abbiamo fatto un cacchio ma pure sbagliando strada mannaggia a me e niente raga cioè dovete entrare nel mio server discord e dovete iscrivervi al secondo channel scp trattino elettro 16 perché faccio dei bellissimi video sugli scp e anche sulle animazioni perché si niente raga io ora devo andare alla cella quindi ci vediamo fra 2000 anni ok raga siamo quasi arrivati eccoci qua il pioma guardate qua questo è la carne della nostra amata living room cioè si è tornata qua intanto c'è lava no chris nooo devo ripare tutto a piedi perché dai aspettate un attimo ok eccoci dopo anni non ti tocco più lava allora la cella di oggi è questa perché la cosa divertente di tutto ciò è che questa è carne qua c'è la cella questa qua qua c'è dell'altra carne che però è diversa che poi questa fa sprintare più velocemente questa invece non fa un cacchio poi qua c'è la cella e come possiamo vedere c'è questo la living room è gigante intanto proprio c'è non si nota però è tipo gigante avete anche visto sotto terra c'è raga possiamo vederlo da qua quanto è grande il bioma della living room cioè è proprio interamente fatto di carne poi qua vabbè c'è questo blocco perché credo ci sia la lava però vabbè e niente raga ci buttiamo e va fino alla bedrock e qua c'è la cella che è molto grossa è molto grossa è tipo quella dell'SCP quello là del dei tubi il 015 che poi qua non capisco perché là c'è la carne qua non c'è la carne però vabbè faccio finta di niente entriamo nella cella allora dovrebbe essere qua ecco qua apriamo la porta chiudiamo e di norma adesso ci dovrebbe essere il cartello del SCP che ma ma che ca SCP 002 ok vabbè voi direte ma qual è il problema allora il 002 noi l'abbiamo visto ce l'ho anche contenuto nel laboratorio sto qua com'è possibile che c'è cioè allora 002 l'avevo visto tipo 50.000 anni fa nel mondo degli SCP fake ed era anche fake quello che avevamo visto perché faceva schifo era noiosissimo poi ce l'avevo anche contenuto sto qua cioè il label io questo label io ce l'avevo già e anche quei blocchi però perché è tornato c'è di nuovo la living room boh vabbè comunque sia il 002 è una stanza lo conoscevo tutti è una stanza di carne fatta interamente di carne che ha la capacità di trasformarti in un immobiliare punto it niente questo è il gigantesco coso qua c'è non c'è un ca e io me ne vado e qua c'è la il cubo che è dentro sto cubo c'è la stanza di carne e noi di entrando in questa stanza di carne diventiamo un immobiliare punto it che non sarebbe per nulla bello allora entriamo e vedo già cose schifose la stanza è fatta tutta di carni diversi tipo c'è sta carne questa carne questa carne c'è una keycard il sangue è keycard scus ma c'è sangue peraltro che è keycard magicamente poi qua c'è un televisore di carne con tele che però i tavolini non sono di carne boh allora proviamo a spaccare ogni singola tipologia di carne vediamo prima questa qua ok the red block for the boh ma che cazzo vabbè poi qua c'è questa che la spacco vediamo che fa questo è blocco ah questo questo è vanilla aspetta ok stavamo dicendo che questo abbiamo visto questo abbiamo visto ora vediamo il pavimento che tanto credo si lo stesso materiale credo poi ovviamente se non è lo stesso materiale che è anche bello resistente cioè mi dissocio dall'umanità intera e sono serio mi dissocio completamente dai forza forza che ce la faccio ma che cazzo c'è la lava ok c'è la lava è meglio allontanarci perché c'è la lava è tipo tutto attorno c'è lava ma vabbè tanto fa suoni però vabbè allora 3.000 anni dopo 3.000 anni dopo finalmente l'abbiamo spaccato prendiamoci questo blocco qua e ce ne possiamo andare beh è stato un onore conoscerti stanza vivente possiamo testare qualcos'altro non lo so quindi addio per sempre vabbè ciao ok adesso metto tutti sti blocchi e l'ender chest e niente ci vediamo nell'altro mondo allora raga sono un genio avevo detto tre secondi fa che questo scp già ce l'avevo contenuto infatti ce l'ho contenuto ve lo faccio pure vedere allora dove è eccolo là ave o maria eccolo qua ce l'avevo già contenuto quindi ho fatto tre anni di piena fatica perché sto coso cioè tanto lo avevo visto anni fa e quindi ce l'avevo già contenuto quindi sono deficiente io e quindi dato che abbiamo tempo vi faccio vedere il dottor bright perché il dottor bright è una brava persona ok quindi non romping the balls il dottor bright sta da questa parte con tutti gli altri scp umanoidi ed eccolo qua lui che balla il tango su un coso e si bellecca perché ho scritto immortale poi vabbè fanpino tutti i giovanni di sto mondo e le giovanne vabbè quindi io comunque ragazzi che per questo video è tutto lasciate tanti beh mi piace iscrivetevi e niente ragazzi da me e intanto ragazzi vi faccio anche vedere però ci metterò tre anni perché ragazzi abbiamo visto troppi ma dico troppi perché è vero troppi scp cioè cioè raga ne stiamo vedendo così tanti cactus c'è ancora cactus c'è ok va bene ragazzi stiamo vedendo abbiamo visto così tanti scp che in pratica il corridoio è tipo chilometrico eh cioè aspetta ora vi faccio vedere il coso che ho aiutato salvato ok ragazzi siamo quasi arrivati ecco qua intanto i ragni li dovrei riprendere perché non ci sono e raga ecco qua qua ho risistemato tutto e sì ci sono tutti gli altri scp ah vi piacciono i living lego ma ti piacciono i living lego o li odi ma ha ucciso un living lego no è uscito un living e niente raga abbiamo liberato il living lego vabbè niente caino ha ammazzato un living lego vabbè che questo più lo maneggi più se ne creano però vabbè quindi io comunque ragazzi che per questo video della serie degli scp aia scusa mi ero dimenticato che cioè in realtà lo sapevo però devo evitare di colpirti cosa ah vabbè ci metterò tre anni ma adesso ah ok l'avevo risolto beh beh per favore ora mi deve rimettere a posto tutti i lego perché non si gioca con i lego cristo santo lo dice pure emi diglielo emi perché sei inutile perché mi hai tradito da questo bruno umano beh l'elettro se c'è tutto ciao ciao